e dunque dunque che serata ragazzi per me oggi è una serata ragazzi questa è una serata pazzesca con l'under 23 che spugna vercelli e con la virtus bologna che spugna valencia e va in finale di euro cup e ragazzi ragazzi bella 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 davvero è stata una bella serata devo dire la verità adesso non sto qui a parlare della virtus perché ho visto tutte e due però parliamo dell'under 23 l'under 23 che secondo me ha fatto una grandissima partita è riuscita a limitare una squadra più forte che era la pro vercelli insomma senza e abbiamo colpito poi abbiamo avuto poche occasioni per colpire però quando abbiamo quando abbiamo attaccato abbiamo fatto male perché anche l'occasione capitata da gracca ragazzi era era grossa era grossa perché lì da gracca aveva tutto il tempo di piazzare il pallone come voleva nel secondo tempo si è trovato questa palla proprio davanti al portiere però vabbè decide la rete meravigliosa di compagnon davvero un gol splendido con un tiro a giro di mancino sul palo lontano e adesso siamo i playoff nazionali la prima volta che la juve vince i giro vince i playoff dei girone chiamiamolo titolo per questa squadra che quest'anno ha battuto tutti i suoi record personali ricordiamo che la juve aveva già giocato i playoff nazionali un anno il primo quando abbiamo vinto la coppa italia ma proprio perché avevamo vinto la coppa italia in realtà quest'anno c'è stato tutto un miglioramento miglioramento della fase playoff come un miglioramento anche della fase regular season perché noi siamo arrivati comunque in regular season siamo arrivati due posizioni avanti rispetto a quello che erano arrivati fino a quest'anno e poi appunto l'anno scorso avevamo fatto la finale dei playoff del girone e l'avevamo persa due anni fa appunto abbiamo fatto quella quella che dicevamo la appunto la fase di playoff nazionale ma non avevamo giocato i playoff del girone a tre anni fa addirittura c'erano salvati quindi non abbiamo proprio giocato i playoff quando abbiamo giocato quello del girone a poi ripeto e quindi è veramente stata una soddisfazione per questa squadra quando hanno giocato appunto i playoff nazionali poi mi ricordo che noi avevamo superato il primo turno il padua poi siamo usciti con la cararese tra l'altro senza perdere così come l'anno scorso insomma abbiamo perso siamo usciti proprio con la provercelli quest'anno con la provercelli siamo passati ci siamo diciamo un po' vindicati dell'anno scorso grande soddisfazione mi ero in campo non posso che non darlo appunto a compagnon che ha fatto un grandissimo gol fino alla fine forza jv 23 e adesso vediamo non so neanche chi ci tocca non ho guardato il tabellone ma fino alla fine forza jv 23